Gabriele Ciulla è uno studente dell'istituto Leonardo Sciaccia, al quale chiediamo quali sono le esperienze che ti hanno più entusiasmato fino ad oggi in questa scuola. Sicuramente abbiamo fatto molte esperienze gratificanti in questa scuola, ad esempio il nostro percorso di PCTO, per l'alternanza scuola-lavoro, che facciamo insieme alla start-up FabLab Western Sicily. In questo percorso abbiamo imparato diverse attività, ad esempio la modellazione e la stampa 3D, oppure l'intelligenza artificiale. Questo percorso ci ha aiutato soprattutto allo sviluppo del lavoro in team, oppure a sviluppare la nostra creatività giovanile. Infatti noi partiamo da un'idea che poi andiamo a formalizzare in un prototipo, grazie ovviamente agli strumenti che la scuola e questa start-up ci fornisce, come ad esempio la stampa 3D, oppure il taglio laser. Oltre a questa attività di PCTO noi facciamo anche altre diverse attività, come ad esempio un torneo di videogiochi che sviluppa la nostra competitività con altre scuole di tutta la nazione, oppure anche un evento che riguarda l'intelligenza artificiale, in cui i ragazzi ci specificano nella creazione di applicazioni oppure di programmi per l'intelligenza artificiale. A professore Carmelo Camilleri, docente di questo istituto, chiediamo perché scegliere il tecnico di informatica e telecomunicazioni? Il digitale è ovunque, perché sceglierlo? Perché sicuramente dà una preparazione in linea con i tempi, sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista pratico, nel campo di sistemi informatici e delle telecomunicazioni. La nostra mission è quella di assicurare una formazione di altissimo livello e cercare di preparare i ragazzi ad entrare sin da subito nel mondo del lavoro. Quali sono le materie professionalizzanti? Le materie professionalizzanti si entrano nel vivo nel triennio, con informatica, sistemi e reti, tecnologie di progettazione, sistemi informatici di telecomunicazioni, telecomunicazioni e poi gestione di progetto, che è una materia che è più da management. Ecco, ci saranno dei punti cardine su quanto la gente deve puntare per un approfondimento stimolante ed efficace? Beh, sicuramente la passione. Io dico sempre ai ragazzi appassionatevi. Passione, puntare anche sulla creatività e sulla fiducia. I miei tre punti cardine sono questi. Dare la fiducia ai ragazzi in maniera da poter accrescere la loro autostima e fare in modo che il percorso di apprendimento sia sempre più stimolante e più efficace possibile. Stefania Cefalu, la tua esperienza? La mia esperienza? Ovviamente, come ha detto anche il mio compagno, oltre a diversi corsi che profondisce la nostra scuola, abbiamo anche un corso di cucitrice, dove appunto i nostri formatori hanno comprato questa macchina, al quale ci danno la possibilità di creare disegni con la nostra immaginazione sullo tessuto. Oltre a questa esperienza di PCTO, ex alternanza scuola lavoro, abbiamo anche avuto la possibilità, diversi all'unito di questo istituto, di fare un viaggio Erasmus, dove abbiamo conosciuto appunto altre culture e altri metodi di studio, attraverso anche il lavoro in team, attraverso queste persone parlando l'inglese. Infatti sono partite la Danimarca, ovvero il mio gruppo, e adesso partirà a breve il gruppo della Turchia. Ecco, ci racconti brevemente la tua esperienza in Danimarca? Allora, la mia esperienza in Danimarca. Allora, noi siamo partiti, ovviamente non tutti conoscevano bene la lingua, infatti noi partiamo con la disponibilità a chiunque di poter partecipare, anche se non si conosce molto bene la lingua, noi possiamo andare lì per, oltre ad imparare molto meglio tutte le conoscenze, oltre ad imparare appunto l'inglese, anche a conoscere nuove persone, aprire pronto i nostri orizzonti, nuove culture, per infatti così arricchire il nostro bagaglio culturale. Professore Cammelleri, volgarmente vengono chiamati gli smanettoni, no? Ecco, essere un informatico significa necessariamente stare sempre davanti a un pc? Beh, no, assolutamente no. Essere un informatico non significa stare davanti a battere i tasti di una tastiera davanti a un monitor, ma spesso significa anche occuparsi di tante cose molto più appassionanti. Intanto mettere in gioco e dare sfogo alla propria creatività, perché il digitale permette anche questo. Ma sicuramente anche sviluppare soft skills, come per esempio il lavoro in team, o la condivisione dell'analisi del contesto, o della scelta delle soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi. Comunque in generale, diciamo che chi lavora con l'informatica, lavora anche nel campo della consulenza, della formazione, non è solo stare a fare lo smanettono o il nerd, come si dice tecnicamente nel gergo. Per la mia personale esperienza io consiglio di scegliere il corso informatico anche per le ragazze, anche se non si pensa che sia un corso per le femmine, perché si ha una mentalità un pochettino arretrata. Ma io appunto lo consiglio, perché oltre a dare tantissime competenze in ambiti lavorativi di qualsiasi genere, ti arricchisce appunto le competenze in molti settori che si stanno sviluppando di questi tempi. Grazie a tutti.